Il coraggio di essere originali, trovando un punto di resistenza di fronte all'ostilità e difendendo i deboli e gli umili. Sono queste tre parole, sintesi di altrettanti atteggiamenti di vita buona, che l'Arcivescovo lascia all'ottantina di ragazzi, provenienti da diversi oratori della diocesi, riuniti in uno dei luoghi simbolo della Milano che hanno da passato presente e il domani della speranza, il Giardino dei Giusti presso il Monte Stella, che dal 2003 propone l'esemplarità della testimonianza di 86 donne e uomini di diverse epoche che in tante parti del mondo e differenti realtà si sono posti alla barbarie, alla sopraffazione e alla violenza. E tutto in un suggestivo percorso nel verde, dove tra cippi, posti a terra, alberi e semplici targhe con incisi nomi dei giusti, il Vescovo Mario ha personalmente scelto che fossero presenti tanti ragazzi. Per il terzo e ultimo appuntamento dell'iniziativa l'Arcivescovo ti invita. L'incontro più voluto, sottolinea Don Stefano Guidi, direttore della Fondazione degli Oratori Milanesi. Accanto a lui Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale, che porta il saluto dell'amministrazione. Di un grandissimo regalo parla Gabriele Nissim, presidente di Garivo, cofondatore Anima del Giardino. Si avvia così il percorso, per cui i ragazzi, a gruppi, compreso l'Arcivescovo accompagnati da una guida, visitano diverse zone della struttura. Infine, ancora presso l'anfiteatro, l'Arcivescovo va a dire ai giovani nell'auspicio che simili visi si ripetono ogni anno, vorrei che scopriste luoghi come questi. Da qui le tre parole, per intraprendere la strada della giustizia e che valgono a qualsiasi età. Forse la vostra generazione incontra un contesto magari un po' gravato da tanto pessimismo, da tanto senso di rassegnazione, ma forse meno pericoloso di quello che hanno vissuto alcune epoche i vostri nonni, i vostri padri, i vostri bisnonni. Però forse la reazione, il coraggio di essere originali può proprio prendere posizione contro certe mode che sono diffuse. E una moda che è diffusa, per esempio, è il malumore, è il lamentarsi, è l'essere scontenti, è l'essere scoraggiati. Ecco, io vorrei che vi alzaste in piedi voi a dire no, io sono contento di vivere, di impegnarmi, di far bene il mio dovere. Ecco, forse non diventerò un giusto che merita una targa, ma io contro malumore, lo scoraggiamento, io dico no, io voglio vivere contento, voglio fare il bene. Lei pensa che questo possa anche essere un insegnamento per Milano di come si possa stare insieme, specialmente quando si parla di ragazzi? Sì, questi giusti dicono che è importante che ciascuno senta la responsabilità delle sue scelte, di farsi avanti. Quando c'è una situazione problematica, quando c'è una discriminazione insopportabile, quando c'è un'ingiustizia, ecco, ci deve essere chi dice io non sono d'accordo, che si tratti del bullismo nella scuola, che si tratti delle violenze che si perpetrano per le strade, fuori dalle discoteche o nei varie occasioni. Ecco, l'indifferenza non è ammessa da chi vuole essere giusto. Ecco, quindi anche per la convivenza civile a Milano si deve dire che la possibilità di renderla abituale non dipende solo dalle forze dell'ordine, dalle forme di contenimento, dalla vigilanza, ma dipende dalla coscienza delle persone che si mettono di mezzo e dicono no, questa cosa è sbagliata, questa cosa non si deve fare, che i forti si approfittino dei deboli, che chi ha le armi si approfitti di chi è disarmato, che chi è prepotente possa fare quello che vuole. Ecco, noi non siamo d'accordo, io mi oppongo a questo, mi faccio avanti anche se talvolta questo può avere conseguenze dolorose. Grazie.